Benvenuti al TG7 Basilicata. Partiamo proprio dai numeri di contagio da coronavirus in regione. La Task Force regionale comunica che in tutta la giornata di ieri 6 aprile sono stati effettuati 99 test. Di questi 95 sono risultati negativi e 4 positivi. I 4 positivi riguardano 2 il comune di Potenza, 1 il comune di Matera e 1 il comune di San Costantino Albanese. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 264, un totale di 3.160 tamponi analizzati, di cui 2.867 risultati negativi. Ai 264 positivi vanno aggiunte 14 persone decedute e bisogna ricordare che sono altrettante 14 le persone guarite. Attualmente i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere lucane, mi riferisco all'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza e all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, sono 64. Andiamo avanti con l'informazione, c'è una visita importante che ha riguardato la Basilicata quest'oggi. Si è trattato del viceministro alla salute Pierpaolo Sileri che ha parlato con i giornalisti e soprattutto ha avuto un incontro oggi con il governatore Bardi, che l'ha ricevuto in regione e poi si è spostato presso l'azienda ospedaliera San Carlo con medici, dirigenza, fino ad arrivare in prefettura insieme a Bardi ed è incontrato lì il prefetto annunziato Vardè. Con il presidente Bardi naturalmente c'erano anche gli assessori, l'assessore Leone, l'assessore Merra, il responsabile della task force esposito, il direttore generale del San Carlo. In particolare ci si è soffermati su alcuni aspetti di questa emergenza e dice ho trovato un piano molto pronto, dice il viceministro, soprattutto per quanto concerne gli ospedali e le terapie intensive che sono state organizzate con un importante aumento di posti letto. Una notevole azione sul territorio è garantita inoltre dalle squadre che si occupano di monitoraggio a domicilio delle persone affette da Covid-19. Si sta anche implementando e intensificando una telemedicina attiva che comunque consentirà di comunicare chi è positivo ai vari sindaci per garantire naturalmente anche dei passi in avanti in quella che è la lotta contro il virus. Noi prima di lasciarvi comunichiamo una notizia importante soprattutto per coloro che di tanto in tanto si recano l'ufficio postale tra le altre cose anche per la riscossione della pensione. Infatti i posti italiani e l'arma dei carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali che riscuotono normalmente la pensione in contanti possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio delegando a ritiro i carabinieri. Bisogna fare attenzione però perché questo servizio non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque ecco questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione. Io come ogni sera vi lascio con l'invito che è un nostro dovere è quello di restare a casa, di resistere in questo momento particolare perché è vero che c'è anche un calo dei contagi, ecco è evidente però non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Sono momenti cruciali, sono giorni cruciali, si avvicinano le festività pasquali ecco l'invito ovviamente sia Pasqua che Pasquetta è quello di rimanere a casa è uno sforzo, ognuno dovrà fare ecco la sua parte per poter sconfiggere questo nemico invisibile. È davvero tutto, io vi ringrazio per l'ascolto, a domani.